Benvenuti su News per te. Cosa ho da dire? Pier Silvio Berlusconi parla di Barbara D'Urso e arriva la replica della conduttrice. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Barbara D'Urso è stata allontanata da Mediaset, un evento che ha scatenato molto clamore. Nonostante i tentativi di ritorno, il suo futuro televisivo rimane incerto. Pier Silvio Berlusconi, durante una conferenza stampa, ha commentato l'addio di D'Urso, sostenendo di non avere rimpianti riguardo agli ascolti e definendo la scelta puramente televisiva. Berlusconi ha specificato di non avere nulla di personale contro D'Urso e che la decisione non è stata presa contro di lei, augurandole il meglio per il futuro. Barbara D'Urso, attraverso una storia su Instagram, sembra aver risposto indirettamente a Berlusconi con una frase enigmatica che ha suscitato diverse interpretazioni. La sostituzione di D'Urso con Mirta Merlino a pomeriggio 5 potrebbe essere stata uno dei motivi di questa risposta acida, suggerendo un malcontento per come è stata trattata da Mediaset. Ci sono insinuazioni che D'Urso si è amareggiata per non aver avuto la possibilità di salutare il suo pubblico, un dettaglio che ha peggiorato la situazione. La situazione tra Barbara D'Urso e Mediaset sembra quindi conclusa in modo brusco, lasciando spazio a numerosi dibattiti e speculazioni sul suo futuro. In risposta alle dinamiche di questa separazione, D'Urso ha espresso il suo disappunto, segnalando una possibile frattura irrisolta. Il dibattito su questa vicenda continua, alimentando discussioni e analisi sia tra i fan che nei media, delineando un capitolo significativo nella televisione italiana. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao!